Pure tirando freno a mano quando stai andando veloce, comunque sbandi ma non è che risolvi in questo senso qua e chiedo anche a Laura se dal suo punto di vista quali sono le cose che potremmo proporre o sulle quali potremmo spingere, che siano ascoltabili da chi poi amministra e governa, lo dovrebbe farlo.